Ancora aggressioni nei pressi della zona di Campo di Marte, in tutto due quelle per le quali sono dovuti intervenire nel pomeriggio di martedì i carabinieri della stazione di Arezzo in collaborazione con la sezione NOR. Si è trattato di due tentate rapine avvenute in rapida successione di fronte alla stazione ferroviaria in un parco cittadino, vittime due giovani, uno di Arezzo e uno di Siena, che erano stati picchiati con violenza dopo essere stati avvicinati dal rapinatore allo scopo di farsi consegnare denaro. Entrambi i giovani, dopo il rifiuto, sono stati picchiati al volto per tutti e due importanti fratture al naso. Dopo l'aggressione, le vittime hanno allertato il 112, i carabinieri hanno iniziato le ricerche del responsabile anche grazie ad alcuni testimoni. Poco dopo è stato fermato un 26enne del Casentino con precedenti penali. Per lui sono scattate le manette per tentata rapina e lesioni personali, ma visto che era stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro che presumibilmente ha usato anche per altri reati, è stato segnalato in stato di libertà anche per porto di armi e oggetti atti ad offendere.